Aperti casting per il nuovo progetto Pordenone, realizzato dall'Associazione Giovanile Astro con l'Assessorato Politiche Giovanili del Comune di Pordenone e il sostegno di Fondazione Friuli. Venerdì 14 e sabato 15 aprile, nello spazio AB 381 in piazzetta Furlan 15, tutti sono invitati a partecipare da protagonisti e comparse al progetto cinematografico, che tramite un racconto noir formato da sette corti di 7 minuti l'uno, ripercorrerà le bellezze della città e le diverse realtà che la popolano. Il Comune sta cercando di affiancare i giovani in tanti modi, mostre, musica e oggi anche video, con questi casting che si svolgeranno in questo spazio funzionale e bellissimo, è l'AB 381, uno spazio giovanile che è entrato in rete con i centri giovanili del Comune. Noi per così dire non caliamo nulla dall'alto, ascoltiamo i giovani, chiediamo che cosa vogliono realizzare e cerchiamo di dare una mano per far modo che loro possano realizzare quello che vogliono fare. Credo che sia un buon modo per promuovere la partecipazione dei giovani alla vita della città e in particolare alla vita culturale e artistica. Per noi è un onore, un privilegio ospitare i casting dei corti dell'Associazione Astro perché nel nostro AB 381 vogliamo che gli eventi culturali, le iniziative a favore dei giovani diventino protagoniste, trovino spazio, uno spazio libero, aperto per tutti. Questa è la nostra missione e questo è il primo inizio delle nostre grandi attività in questo spazio. Si tratta di una serie di corti cinematografici che durano circa sette minuti l'uno per presentarvi la splendida città di Pordenone. Questi corti sono fatti in modo tale che ci siano pochissime parole ma un'atmosfera costruita sopra ai suoni e alle immagini della città. Ora vi aspettiamo il 14 e il 15 aprile qui al AB 381 ai casting per le selezioni. Potrete interpretare uno degli splendidi personaggi all'interno del nostro progetto.